Una caratteristica importante La caratteristica importante dei vulcani è la forte emissione di gas. Dai cartelli di vulcani attivi come per esempio l'Etna e lo Stromboli viene emessa una grandissima e impressionante quantità di vapore e di gas, ma anche nei vulcani quiescenti, cioè quei vulcani che non eruttano da anni, da decine di anni oppure da secoli, come per esempio nel napoletano, i campi freghei e in Sicilia vulcano, la presenza di fumarole di alte temperature e ricche di gas acidi sta lì ad indicarci che forse sotto terra c'è del magma che degassa e che potrebbe eruttare da un momento all'altro. Lo studio dei gas vulcanici è una delle attività più importanti nella sorveglianza degli stessi, nel monitoraggio dei vulcani ed è e può aiutare gli scienziati a capire se un vulcano sta eruttando, sta per eruttare. Tutte queste belle domande su che cosa sono i gas, che cos'è la geochimica e la geofisica dei gas, noi lo chiederemo oggi ad una esperta in questo campo, è la ricercatrice Maria Luisa Carapezza, che è qui con noi. Buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato questo invito per parlarci dei gas, dei vulcani, un tema veramente un po' di nicchia, ma molto affascinante, perché generalmente si parla di eruzioni vulcaniche, però dei gas, poi alla fine dei conti non è che si parla di ceneri, ma poco in televisione si sente parlare di gas. E ne parliamo con Maria Luisa Carapezza, che è geochimica dei fluidi, poi ci spiegherà anche che cosa vuol dire geochimica dei fluidi, e che lavora e che fa ricerca presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'acronimo è INGV. Però lei è così dolce, bella, occhi trasparenti, fa pensare forse più ad una mannequin che non ad una ricercatrice sul vulcano. Come mai una ragazza giovane, carina, decide di mettersi gli scarponi con l'attrezzo in mano e andare sui vulcani e occuparsi addirittura non tanto delle esplosioni, ma dei gas? Cioè come mai? Da che cosa le è nata questa curiosità? Beh, guardi, la risposta si articola in modo molteplice, le ragioni sono tante. Consideri, insomma, uno dei fattori fondamentali è la mia provenienza dalla terra per eccellenza dei vulcani. Io sono siciliana, sono di Palermo, e in Sicilia abbiamo il maggior numero dei vulcani attivi italiani. Abbiamo l'Etna, che è il vulcano attivo più grande d'Europa, che è quasi sempre in eruzione, ha frequentissime eruzioni e che ci vengono tutti ad ammirare. Abbiamo lo Stromboli, abbiamo Vulcano, le isole Oli in genere, Pantelleria. Per cui sono cresciuta, affascinata da questo grande nostro. Ho avuto la possibilità, quindi fin da piccola, di vedere, ricordo, un'eruzione dell'Etna del 71, in cui ero proprio piccolissima, e il fascino enorme di vedere questa colata, questo vulcano in eruzione. Quindi sicuramente ho avuto una suggestione determinata dall'ambiente in cui ho vissuto. Però certo non basta, ha ragione. Poi c'è un po' la mia passione proprio per la vita all'aria aperta, per la natura, insomma, e la possibilità contemporaneamente di indagare su questi fenomeni naturali. Questo è un po' un'eredità anche della mia famiglia, se vogliamo, che è divisa in parte tra scienziati dal lato paterno e filosofi dal lato materno. Ecco, io lo sapevo dalla parte paterna, il professor Carapezza, ma dalla parte materna invece questi filosofi... Sì, filosofi, mia nonna che era appunto un docente di filosofia, fin da piccola mi portava, amava molto passeggiare in montagna o al mare, insomma, in ambienti naturali, e passeggiando si parlava di filosofia. Quindi mi ha fatto vivere anche, diciamo, la natura non solo come affascinante luogo in cui trovarsi, ma anche ponendosi il perché di tante cose e cercando delle risposte. Quindi probabilmente questo insieme di cose, un po' la famiglia, un po' la Sicilia, un po' la mia natura esuberante, che non mi consentiva di vivere in un ambiente chiuso, hanno generato poi questa scelta. E' curiosità di queste scelte di studi a scuola. Sì, poi per rispondere alla domanda specifica dei gas, la scelta dei gas, quello è stato appunto legato al fatto che, interrogandosi, ora poi ne riparleremo meglio nel corso della trasmissione, interrogando su come avvengono le eruzioni vulcaniche, il gas è uno degli elementi fondamentali. Ecco, e che cosa succede? Perché è fondamentale nell'eruzione di un vulcano il gas? Allora, dobbiamo entrare più nello specifico adesso. Dobbiamo entrare, sì, nello specifico. Il gas rappresenta esattamente il motore delle eruzioni vulcaniche, è uno delle componenti fondamentali del magma e della dinamica eruttiva. Per capirlo dobbiamo però spiegare un concetto molto semplice, che è l'effetto della pressione sulla solubilità dei gas in un magma. Sembra un discorso... No, vogliamo però spiegare allo spettatore a casa che cos'è la geochimica dei gas, la geochimica dei fluidi. Cioè, che differenza c'è tra la geochimica dei gas e dei fluidi? Che cos'è? Sì, allora, le spiego. Che cosa vuol dire? Allora, il fluido è qualunque cosa ha caratteristiche fluide, cioè l'acqua e i gas, l'insieme di acqua e gas si chiamano fluidi. La geochimica, quindi, è uno studio, diciamo, un approccio chimico alla terra. Geochimica, quindi il mio mestiere, insomma, un geochimico dei fluidi, studia i fluidi della terra, quindi acqua e gas in generale. In particolare, poi, la mia specializzazione è geochimica dei fluidi, soprattutto in ambiente vulcanico. E quindi sono le fumarole, sono le acque, le sorgenti calde, che scorrono e che sono presenti su tutti i vulcani, o geotermiche, le risorse geotermiche, insomma, sui vulcani spenti. Quindi questo è il tema. Il tema è questo? Sì. Allora, ritornando... Sui gas e i vulcani. Per spiegare il sistema, molto semplicemente, consideriamo di prendere, faccio un esempio molto semplice, una bottiglia di champagne, che tutti conosciamo. Quando questa è tappata, noi vedremo, se la guardiamo in trasparenza, vedremo un liquido al suo interno. In realtà, al suo interno, insieme al liquido, c'è il gas disciolto. Ma noi non lo vediamo perché il tappo, che chiude la bottiglia, esercita una pressione tale per cui il gas rimane disciolto. Se noi leviamo il tappo e versiamo lo champagne in un bicchiere, l'avrà visto tante volte, si formano tante bollicine, dei treni di bolle nel bicchiere. Sì. L'esperienza. A quel punto, leviamo il tappo allo champagne, dopo averlo agitato, cosa succederà? Viene fuori una schiuma. Questa schiuma è il gas che noi abbiamo aiutato a liberarsi, diciamo, con lo scuotimento, che quindi viene fuori trascinando in parte il liquido. Quindi assume questa forma di schiuma. Di schiuma. Però, effettivamente, ci sono champagne effusive, champagne effusivi. E quindi tutto questo bel racconto noi lo possiamo equiparare all'eruzione vulcanica. Esattamente. Lei ha capito bene il problema. Consideriamo che il nostro liquido, che poi è un fuso, è il magma, che si trova di solito in natura o nel mantello o in genere in una situazione intermedia. Al di sotto di un vulcano, nelle cosiddette camere magmatiche, a una decina, tra i 5 e i 10 chilometri di profondità. Quindi quello è il nostro liquido, chiamiamo il nostro fuso, con i gas disciolti. Da che dipende se la camera magmatica è più grande o meno grande? Beh, questo dipende dalle caratteristiche, insomma, del luogo in cui ci troviamo, dalle rocce incassanti, dalle caratteristiche stesse del magma, dalla maggiore o minore viscosità, insomma, comunque dal serbatoio profondo anche. Vabbè, dicevo, invece, il nostro tappo nel sistema naturale è rappresentato dallo spessore delle rocce sovrastanti, che quindi sono, non so, 5 chilometri, va considerata ovviamente questa densità. Quindi il magma si trova, non so, a 5 chilometri, 10 chilometri, con un pacco di rocce di quello spessore sopra, che sono il nostro tappo. Quindi in quella fase troveremo il magma con il gas disciolto. Quando il magma comincia a risalire, via via lo spessore di roccia diminuisce, e quindi questo gas è come quando noi cominciamo a levare il tappo, no? E vediamo già che le prime bollicine vengono su. Cominciano a separarsi. Cominciano a separarsi e via via che risale diventano sempre più grandi e sempre più numerose. Quindi in un sistema, diciamo, tipo etne, a questo punto dobbiamo inserire un secondo concetto per spiegare meglio il principio, che è la viscosità. Ecco, e che succede quando, per esempio, i campi Flegrei e Vesuvio sono più viscosi rispetto ad altri vulcani italiani? Sì, 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 sì. Dicevo, la viscosità ci dà, appunto, ci sono magmi più o meno viscosi. In un vulcano tipo l'Etna il magma è poco viscoso, quindi, diciamo, ha una capacità bassa di trattenere il gas. Quindi via via che il magma risale in un'eruzione dell'Etna, questo gas si libera lungo la risalita e quindi è quello che noi osserviamo, se guardiamo l'Etna in qualunque minuto, c'è sempre un pennacchio, la plume, noi la chiamiamo, questo degassamento molto forte, perché il gas ha la possibilità di liberarsi. Quando avviene un'eruzione avverrà, cioè il magma risale, c'è ancora un po' di gas e quindi avviene questa fuoriuscita di una schiuma bollosa con il magma che viene fuori, si producono le colate laviche che però contengono poco gas, scorrono lungo i pendi del vulcano. E sono meno pericolose per l'uomo. E sono meno pericolose per l'uomo perché, diciamo, che generalmente non ammazzano, invadono una parte del territorio che sono distruttive per il territorio, ma non mettono a rischio la vita perché c'è questa... Invece in vulcani con magmi più viscosi, come lei ha detto bene, tipo Campi Flegrei o Vesuvio, in questo caso la viscosità del magma fa sì che le bolle di gas siano trattenute all'interno del sistema fino a... cioè il gas non riesce a liberarsi, quindi le bolle di gas aumentano enormemente di volume, aumentano di dimensione fino al raggiungimento di quello che chiamiamo, insomma, un punto critico in cui, diciamo, il vulcano esplode, si ha questa violentissima eruzione di gas con brandelli finissimi di magma. Questa eruzione porta alla formazione di una colonna eruttiva anche di decine di chilometri e quindi è un'attività esplosiva, violenta, questa colonna poi produce una ricaduta sia di materiale ma può anche collassare con i fenomeni, le colate piroclastiche, eccetera, creando quindi problemi enormi rispetto alla popolazione che vive sulle pendici di quel vulcano. E' quello che è successo, diciamo, nella famosa eruzione che distrusse Pompei e Ercolano che tutti conosciamo nel 98, l'eruzione pliniana si chiama appunto, il massimo dell'energia. Quindi è chiaro come il ruolo del gas è importantissimo insieme alla viscosità del magma e proprio determina la dinamica eruttiva, il tipo di attività. E in questo caso, cioè, lei ha spiegato anche la geochimica dei gas nella fase eruttiva, cioè come fate a capire quando sta eruttando un vulcano attraverso la geochimica dei gas? Cioè, se avete dei tremori, cioè perché non c'è un termometro, no? No, no, c'è anche un termometro invece che... Cioè, come funziona? Come fate a dire sta eruttando se poi il magma non è ancora visibile? Sì, beh, questo è un problema molto delicato ed è uno degli aspetti più affascinanti, secondo me, di questo mestiere. Poi ci spiega anche il termometro, però, eh? Sì, sì, ora ne parliamo del termometro, almeno dal punto di vista mio, perché, diciamo, il lavoro di ricerca puro diventa anche, acquista anche un'utilità sociale. Cioè, nel momento in cui facciamo la sorveglianza, cerchiamo di capire se un vulcano si avvicina a un'eruzione, stiamo cercando di mettere in salvo la vita delle persone. Quindi io, dal punto di vista anche etico, mi sento maggiormente appagata, insomma, nel mio lavoro. Perché voi siete dei dottori, poi, alla fin dei conti. Siamo dei dottori della Terra. Dei dottori della Terra, quindi dei medici. Sì, in qualche modo sì. Solo che il paziente, diciamo, non si esprime con linguaggio, e, un po' forse come fanno i veterinari, abbiamo dovuto noi cercare di capire quali sono i segnali. I segnali, sì. Quindi, dicevo, lei mi chiedeva come fate a capire che si approssima un'eruzione. Beh, come dicevo, quando avviene un'eruzione, il magma migra da una profondità, dal mantello, dico, a qualche chilometro, verso la superficie. Abbiamo detto che il gas tende a liberarsi, quindi, la prima cosa che avviene è che questo gas raggiunge la superficie. Allora, cosa succede? Quando ancora il magma è sotto, noi vediamo la comparsa di numerose fumarole sul bordo del cratere. Quindi, rispetto a qualcuna che c'era prima, o, insomma, vediamo la comparsa di queste fumarole, vediamo un aumento anche del flusso da quelle esistenti, quindi vedremo, appunto, formarsi questa nube continua che aumenta sempre più. Misuriamo la temperatura, quindi usiamo dei termometri. La temperatura, in genere, tende ad aumentare, perché il magma ha una temperatura, diciamo, di mille gradi. Quindi, in genere, queste fumarole, se non sono alimentate direttamente, sono intorno ai 100, tenderanno ad arrivare a 300, 400, quindi, via via, misuriamo questo. Ma cambia anche la composizione chimica, perché all'inizio, diciamo, poi questi gas sono formati prevalentemente da vapore d'acqua, e anidride carbonica, come secondo elemento, che è molto abbondante. L'anidride carbonica è poco solubile in acqua, quindi tende a separarsi prima, e quindi è il primo gas che si separa che viene messo. Quindi noi misuriamo l'anidride carbonica. Misuriamo sia con tecniche dirette, quindi di campionamento nelle fumarole, sia con tecniche a distanza, quindi traguardando sia l'SO2, che è un altro gas presente sui vulcani, e l'anidride carbonica. E poi, insieme a questi fenomeni, diciamo, precursori geochimici, noi li chiamiamo, ci saranno anche dei precursori geofisici. Quello non è il mio campo, ma quando si cerca di prevedere un'eruzione, siamo in equip, quindi all'interno dell'INGV ci sono le competenze, è chiaro che questo magma risalendo frattura le rocce sovrastanti, e quindi si generano dei terremoti. Dei terremoti che, lei dice, come fate per esempio a capire che sono legati al vulcano o meno? Esatto. Insomma, e allora quello che si vedrà, perché questo magma si muove e risale verso la superficie, è che la profondità dei terremoti va migrando. Quindi prima è una determinata profondità, poi un po' più superficiale e così via. Quindi mettendo insieme questo. Un altro elemento è la deformazione dell'edificio vulcanico. E quanto dura questo tremore? Guardi, questo è molto variabile da vulcano a vulcano. In vulcani come l'Etna, anche se non è un vulcano pericoloso, anche quello è sorvegliatissimo dalle reti dell'INGV, dai ricercatori. E lì si va anche a qualche ora solo di preavviso, perché l'Etna ha un condotto aperto, il magma è libero sempre di salire, di scendere, insomma di venire alla luce. Quindi si va a un preavviso molto breve. I vulcani invece esplosivi, che hanno eruzioni però molto più lontane nel tempo, come il Vesuvio o vulcano, hanno un tempo di preavviso più lungo. Cioè proprio questa fratturazione che deve avvenire delle rocce, la deformazione, tutta questa migrazione del magma, va da alcuni giorni a alcune settimane. Addirittura così tanto? Sì, è quello che speriamo che avvenga per il Vesuvio, che per mettere un'evacuazione, insomma lì ci sono centinaia di migliaia di persone a rischio. Noi abbiamo citato diversi vulcani quiescenti, attivi, ma la differenza, se ci può spiegare, la differenza tra un vulcano attivo, quiescente, dormiente e morto? Perché poi volevo farle una domanda sul vulcano, che invece è un vulcano quiescente. Sì, sì, sì. Che differenza c'è? Si considerano, intanto vulcani attivi sono... Quelli vivi, vediamo. Tutti vulcani vivi, no no, ma anche quelli quiescenti, rientrano all'interno dell'attività. C'è una definizione che va cambiando nel tempo su qual è il limite per considerare un vulcano attivo o meno. Lei consideri che il Vesuvio, quando ha fatto la famosa eruzione di Pompei ed Ercolano, era inattivo da circa duemila anni. Quindi, ecco, ed è un vulcano attivissimo, come sappiamo. Quindi è delicato stabilire il limite e quindi, a seconda anche delle eruzioni che via via sono capitate negli ultimi anni, tipo il vulcano St. Helens nell'80 negli Stati Uniti, si è spostato questo limite a migliaia di anni, proprio perché ci si è accorti che in realtà ci possono essere tempi di riposo lunghissimi. Che geologicamente però forse non sono niente. Geologicamente sono nulla, però per noi, per il nostro concetto di tempo, sono tanti. Quindi all'interno della categoria dei vulcani attivi, poi abbiamo vulcani attivi, diciamo noi abbiamo poi in Italia questa meraviglia di avere veramente tutte le tipologie di vulcani e quindi abbiamo lo stromboli, che proprio è la caratteristica dell'attività perenne e permanente. Da circa duemila anni ha sempre il motore acceso, in continua eruzione, in continua attività. Poi si passa all'Etna, diciamo che ha un'attività di circa un'eruzione l'anno, anche quella, insomma, attivissima. E poi abbiamo i vulcani quiescenti, come vulcano. Ma da vulcano potremmo aspettarci un'eruzione imminente? Guardi... Si può dire, si può fare questa domanda? Beh, si può fare, anche perché sicuramente le cronache, insomma, ogni tanto, appunto, lei ha letto sicuramente qualcosa che ha portato alla luce questo problema. Guardi, il vulcano ha avuto... l'ultima eruzione di vulcano risale al 1888-1890, è descritta dal famoso Mercalli. La cosa che facciamo, diciamo, noi vulcanologi, noi geochimici, ricercatori in genere, è fare un'analisi storico-statistica, cioè studiare la storia del vulcano, del comportamento, per capire anche come si comporterà in futuro. Il vulcano, in genere, nell'ultimo periodo, ha fatto circa un'eruzione ogni cento anni. Quindi questo ci dà già, diciamo, un'idea che è più o meno, insomma, una certa attesa. Poi, negli anni... quindi ha avuto questa eruzione vulcaniana, perché i nostri vulcani danno anche il nome a molte delle attività, quindi le pliniane dal Vesuvio, stromboliane dallo stromboli, vulcaniane da vulcano, e ha avuto questa eruzione. Poi, negli anni venti, tutto il Novecento, ha avuto, diciamo, dei periodi di crisi, chiamiamoli. Periodi di crisi, soprattutto, che si sono manifestati con le variazioni dei parametri geochimici. Quindi l'aumento dell'attività fumarolica, l'aumento... la variazione della composizione chimica verso una composizione che indica più una presenza di gas magmatici, l'aumento delle temperature. E questo, diciamo, è avvenuto in modo quasi ciclico, l'ultima... cioè, fino agli anni, insomma, 90, e l'ultima crisi l'abbiamo avuta proprio nel 2004-2005. E noi abbiamo avuto, insomma, il gruppo di ricerca, di cui faccio parte, insomma, altri colleghi dell'Osservatorio Vesuviano di Palermo, l'opportunità, quindi, come geochimici, visto che l'elemento principale delle crisi era il gas, di studiare questa crisi, di seguire da vicino, facendo una grossa mappa del flusso di anidride carbonica del cratere della Fossa, che è il cratere attivo, e ripetendola nel tempo per seguire proprio l'evoluzione di questa crisi. E così abbiamo seguito per due anni queste variazioni, trovando... Monitorando giorno per giorno. Monitorando a periodi, sì, sia in continuo, sia con queste mappe, insomma, ripetute nel tempo, e ci siamo accorti che in periodo di tranquillità o durante queste crisi si arrivava a un'emissione di gas di circa 700 tonnellate al giorno, che è un numero veramente... Tanto? Sì, molto alto, insomma, per un vulcano che è quiescente, quindi più di un ordine di grandezza. Però, diciamo, siamo arrivati alla conclusione, insomma, di questi studi abbastanza rilevanti che abbiamo condotto, che il vulcano non era, non stava per eruttare, perché mancavano gli altri precursori geofisici che dicevamo che devono accompagnare l'evoluzione di un'eruzione. C'è una bassa sismicità, ma non c'è deformazione, non ci sono stati altri segni. Quindi l'interpretazione che abbiamo dato a questi fenomeni è quello che invece proprio questa attività sismica, debole della zona, crei una fratturazione che consente al gas di risalire. Quindi, diciamo, gli abitanti possono stare tranquilli. Possono stare tranquilli, perché abbiamo letto, forse, nel passato, una moria di animali da stalla in alcuni posti d'Italia, come, per esempio, i Colli Albani, come... Comunque, forse, a vulcano stiamo tranquilli. Stiamo tranquilli, anche se il magma c'è. Quindi è un vulcano attivo, è un vulcano... Perché uno pensa al gas e si allarma. Ma in questo minuto non abbiamo un'imminente eruzione. E comunque l'Istituto Nazionale Geofisico e Vulcanologia sorveglia 24 ore al giorno tutti i vulcani italiani. Quindi noi geochimici diamo il nostro contributo. Anche a questo... Abbiamo avuto, diciamo, un altro esempio, perché, diciamo, un vulcano non è arrivato un'eruzione, ma a Stromboli sì. Quindi abbiamo avuto, perché una domanda che ci viene rivolta spesso, anche dalla gente, no? Andando nei luoghi dove lavoriamo. Ma voi come fate a essere sicuri che poi quello che dite succederà, no? E nel caso di Vulcano non ha mai eruttato il Vesuvio, Dio ce ne guardi, dico, a Stromboli abbiamo avuto l'opportunità, nel 2002-2003 ha fatto questa grande eruzione, e anche lì conducevamo i nostri studi, già dagli anni 90, quindi avevamo un record di dati molto lunghi, e abbiamo avuto una grande soddisfazione, insomma, grandi risultati scientifici nel vedere che una stazione in continuo, che misura proprio il flusso del gas, che viene... ha registrato una settimana prima dell'inizio dell'eruzione, questo evento ci ha registrato un aumento, c'è stato un incremento del degassamento enorme, che quindi proprio ci preannunziava l'eruzione, quindi abbiamo anche adesso, diciamo, alla luce di questi risultati, una maggiore forza... Per dire? Sì, del nostro, insomma... Per dare delle risposte. Per dare delle risposte. E volendo fare un salto da vulcano ai Colli Albani, invece? Eh, i Colli Albani... Vedo che lei è informatissima, preparata. Che cosa è successo? I Colli Albani... Come si sono messi? Beh, guardi, fino a poco tempo fa erano considerati un vulcano spento. Recenti... Ecco, quindi la differenza tra quiescente e spento, che possiamo essere tranquilli per lo spento... No, in realtà non lo è. Non lo è. In realtà non lo è. In realtà recenti studi condotti dall'Università di Roma 3 e anche dall'INGV hanno messo in evidenza che l'attività è più recente di quello che non si pensava. Ancora c'è... Diciamo, sono in corso degli studi, ma probabilmente c'è una linea di ricerca che dice che arriva fino a poche migliaia di anni fa, quindi sarebbe un vulcano attivo. D'altra parte, no, io abito a Roma, quindi sto conducendo proprio da anni degli studi su quest'area, studiando i gas, è una zona molto ricca di gas, ci sono molte aree di emissioni di gas, come Cava dei Selci, la Solforata, il lago Albano stesso è sede di emissioni nel fondo di gas e si sono verificati nel passato molti episodi di moria di animali, un incidente a un uomo e poi tantissimi altri animali domestici e situazioni di pericolo. Quindi abbiamo iniziato appunto a studiare e a valutare questo degassamento di questo vulcano e ci siamo resi conto che i gas emessi sono gas di origine profonda, anche quelli magmatici. Quindi abbiamo dato, insomma, come geochimici, il nostro contributo nella indicazione che quello non è un vulcano spento. L'altro aspetto, questo per quanto riguarda la ricerca pure, l'aspetto applicativo invece importante è quello della mitigazione del rischio, cioè su quest'area, su tante aree di vulcanismo, anche spento, insomma, ma recente, ci sono popolazioni esposte al rischio da gas e quindi, come dicevo, animali morti, zone, quindi è molto importante studiarle, perimetrarle. C'è attualmente un progetto promosso dall'INGV, col Dipartimento della Protezione Civile, che si chiama proprio degassamento diffuso e che si prefigge l'obiettivo di censire tutte queste aree, di poi, insomma, di perimetrarle, di stimare qual è il flusso del gas emesso e di applicare delle misure di riduzione della... di riduzione. E quindi, quello che vede i gas, sì. Stiamo facendo un lavoro, quindi, anche all'interno delle abitazioni, in cui il gas permea e diventano camere a gas, diciamo, e quindi con interventi nei solai, con impermeabilizzazioni, con ventilazione forzata, insomma... Prego? No, pensavo che poi la costruzione delle case andrebbe fatta un po' come palafitte, iniziando forse dal secondo piano dove ad abitare, no? Esattamente, però... Eliminando cantine, eliminando tutto. Però, è quello, quello è una delle indicazioni che noi diamo, è che, però, come lei sa, bisogna conciliare queste cose con la difficoltà di espansione urbanistica. Siamo praticamente a Roma. Alcuni di questi incidenti sono avvenuti dentro le municipalità di Roma che si estendono fino... E quindi c'è una necessità di case, di costruzioni e questo tipo di indicazioni che lei ha intuito perfettamente sarebbe l'ideale non avere scantinati, avere le palafitte, si concilia poco, insomma, con le necessità di questo tipo. Sì, urbanistiche. Speriamo che invece le due cose si camminino a pari passo. Sì. Io, dottoressa Maria Luisa Carapezza, a questo punto, purtroppo, la devo lasciare perché il nostro tempo a disposizione è finito. Io la ringrazio moltissimo e spero anche i telespettatori a casa per questa lezione di divulgazione veramente capibile perché è difficilissimo fare una lezione sulla geochimica, dei fluidi, della geochimica, dei gas. Lei è stata chiarissima. La ringrazio e ringrazio anche voi. Spero, purtroppo, è finito il nostro tempo ma io parerei ancora con lei per un'altra mezz'ora. Il sito dell'INGV è www.ingv.it Cliccando su alcune parole forse riusciamo a trovare anche l'attività sulla geochimica dei fluidi e dei gas. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie a tutti e grazie alla dottoressa Maria Luisa Carapezza. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti.